La pittura che diventa pittura immersiva, la pittura che spero rappresenti bene il fatto di essere pittura. 30 opere, tutti i quadri dell'artista Fabio Bardelli in mostra al Palazzo della Provincia di Arezzo. Il giorno perfetto è il titolo dell'esposizione personale, l'allestimento non prevede pannellatura di supporto nell'uso delle pareti. Il lavoro che è qui presentato comprende un arco di quattro anni. Il fatto di presentarlo in questo modo era dato soprattutto dall'idea, dalla necessità di non poter usare le pareti affrescate giustamente. E quindi, visto che comunque le dimensioni lo permettevano, abbiamo cercato di creare queste isole per poterci girare intorno, più che come una mostra pittorica, come un'installazione di quadri. Bardelli è una delle figure pittoriche di riferimento nel territorio aretino. Le opere che sono da vedere, vedere da vicino, osservare. Sono delle opere che escono dal quadro e in questo contesto bellissimo dell'Atrido della Provincia di Arezzo, penso che farete una bellissima esperienza, non solo visiva ma anche immersiva nell'arte. Quindi coniugando le bellezze del classico con il moderno e anche accettando le sfide che queste immagini rappresentano. Il tutto a tutela, ripeto, di un artista a chilometro zero. La mostra resterà visitabile sino al 21 luglio 2024, da giovedì a domenica dalle 11 alle 20.